Un saluto affettuoso a tutti e buon anno, buon 2021 ai miei cari concittadini, a tutti quanti gli abitanti del nostro meraviglioso territorio, a tutti i siciliani. Sperando che riusciamo a metterci alle spalle questo terribile 2020, nel migliore dei modi, con un cambio di tendenza già da domani, visto che oggi finalmente è l'ultimo giorno dell'anno. Non vedevamo l'ora che arrivasse questo giorno, visto che è stato un 2020 veramente terribile, ma che abbiamo affrontato con grande dignità e con grande senso di responsabilità e quindi il mio ringraziamento va a tutti i miei cari concittadini, a tutti i cittadini in generale della nostra meravigliosa penisola, della nostra meravigliosa Italia. È stato veramente drammatico questo 2020 e quindi il mio augurio a tutti quanti voi, alle vostre famiglie, di uno splendido 2021 di pace, serenità e salute, che possiamo tutti ritornare ad una normalità e riusciamo a ripartire nel migliore dei modi, sia nell'ambito sanitario che nell'ambito economico finanziario. Vi voglio bene, vi voglio sinceramente bene e vi auguro tantissimi auguri di vero cuore. Buon anno, buon 2021!